Salve a tutti, io sono G90Gamer e benvenuti su Deka. Oh santissimo cielo, ma perché gioco a questi horror? Non potevo fare qualche cosa di molto più carino e puccioso? Ebbene sì gente, questo è un gioco molto intenso ma anche una grande sfida per i fan dell'horror. Saremo costantemente in pericolo e faremo di tutto per restare svegli e lucidi se vogliamo sopravvivere. Ma in tal caso, man mano che il gioco si svolge, scopriremo la storia più profonda che circonda il personaggio principale. Indagheremo passo dopo passo su Deka e approfondiremo la storia per svelare tutti i segreti che nasconde. Questo gioco richiede all'incirca tra le 8 e le 10 ore per essere completato. Yehey, ancora molto più complicato. A quanto pare, ma ad ogni modo, il protagonista si sveglia disorientato, steso a terra e incapace di ricordare cosa sia successo. È tutto buio quello che possiamo vedere, sono diversi cadaveri sdraiati sul pavimento e una stanza gremita di oggetti diversi. Ma cosa più importante, sentiremo dei rumori, il che ci fa pensare che molto probabilmente non saremo da soli. Ma a quanto pare dovremmo reagire rapidamente per rimanere in vita e trovare una via d'uscita. Cosa ancora più importante, si dovrà esplorare il manicomio per trovare una via di fuga. Mentre attraverseremo diverse stanze, troveremo indizi che sveleranno informazioni su quanto accaduto. Cartelle cliniche, registrazioni, ritaglio di giornali, eccetera. Tutto sarà rilevante poiché fornirà informazioni sufficienti per scoprire lo scuro segreto che il luogo nasconde. Buona visione! Ragazzuoli eccoci qui, finalmente oggi andremo a provare Deka come abbiamo già visto nel commentary principale del video. Di sicuro questo gioco ragazzi sarà veramente molto molto cattivo. Se magari succederà qualche cosa allora spegnerò il pc e andrò a piangermene in un piccolo angolino tutto solo solo. Detto questo bando alle ciance e andiamo subito con Start. Ed eccoci qua che iniziamo da dove? Ok, si vede già una piccola luce, oddio, una tv, un'altra tv, un'altra tv ancora con scritto 3, con scritto 4, 5, 6, 7, oh maronne. Eh, dai, è già tutto rosso? Eh, no, eh. Cos'è? Sono le tv che sono in quel periodo del mese? Ah, benissimo, però io non vedo assolutamente niente. Eh, sì, ok. Ho capito che siamo stati colpiti da un qualche cosa che non sappiamo cosa, ma abbiamo uno scheletro con delle candele intorno, è perché su un tavolino. E io direi di iniziare, primi spazio, ah ok, per salvare la partita, ok, abbiamo salvato la partita. Qui abbiamo un qualche cosa, F per accendere questa. Dunque ragazzi, allora il gioco è in inglese. Man mano che andremo avanti troveremo sempre più cose, quindi abbiamo già ben due note della stanza. La sotto lì già ne vedo un'altra, vediamo un attimino da dove iniziare per poter andare avanti. Allora, io dico che la torcia, ovvero la torcia alla luce, non è che fa poi così tantissima differenza. Abbiamo un'altra nota, perfetto. Ora, com'è che possiamo uscire da questo posto? E qua sì che sono cavoli, qua sì che sono cavoli. Allora, vediamo un attimino, cerchiamo di capire. Bene, vedo delle bamboline voodoo. Oh maronne santa, ma perché ho iniziato a giocare a Deca io? Per chi non lo sapesse, è un altro horror, ancora più horror di Horror Tales. Scusate il gioco di parole, ma è così. Allora, vediamo un attimino. Innanzitutto cerchiamo di capire dove dobbiamo andare. Sì, vabbè, ho capito che mi fai salvare le partite, però. Io non ho... Aspetta, 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 perché ci sta un piccolo passaggio qua. Se magari... Ah, aspetta. Ah, ok, fa anche in modo automatico. Bene. Ottimo, ottimo, ottimo. E oddio, abbiamo tanta luce però. Abbiamo una barella. Bene. Ah. Oddio. Abbiamo già una porta, una serie di libri. Un bel po' di scrivanie. Un'altra entrata. Aspetta, oddio, oh maronne santa. No, accendi la luce. No, ma io non ci vado lì. Ma siete scimi nel cervello. No, 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 no. Allora, io sono venuto di qua. Io direi di iniziare da questa piccolissima... Eccala. Non si può aprire. E perché vede una cosa lampeggiante là sotto? Oddio. Andiamo di qua, ragazzi, andiamo a vedere. Maronne santa. Oh, maronne santissima. Oddio santo, ma non si vede niente però. Oddio, ma dove cavolo è che sono finito? Andiamo avanti. Per il momento. Sì, ci stanno le... Oddio, ma che cos'è un cadavere? Oh no. Ragazzi, io me la prendo con molta, molta calma. Perché, come detto, hell. Bene. Non so dove stiamo andando, ma è vivo. Oddio, ce n'è un altro appeso come un salame. E un altro qua dentro. Bene. Ehi, e altri là sotto. Ehi, che bello. Oh, maronne santa. Speriamo che sta roba qua non si muova. Perché se si muova... Eh, la madonna. Un altro qui. Oddio, ma sono anche tutti quanti i nudi? Sono i nudi, ma con la testa coperta. Bene. E sono le 4 di notte. E vi sto registrando questo video chiamato Deca. Eh, sì, buongiorno, scusate. Oh, maronne santa, sono cadaveri tagliati. E un altro cadavere qui. Ehi, che bello. Io mi ci vado a nascondere qua dietro. No, non è mai vero della vita. Perché dobbiamo, per forza di cose, avanzare. Allora, aspettate, facciamo così. Andiamo di qua. Perché se non vado errato. Mi sa che io avevo visto un'altra strada che andava qui sulla sinistra. Però non so dove che ci porta. Io direi di andare ad aprire quella porta là sotto. Magari mettete... Eh, ne sono ben due. Qua non ci possiamo entrare. No, perché non mi viene segnalato niente. Questa qui è chiusa. E allora, arrivata a questo punto, dobbiamo andare per forza di cose di qua. Quindi dobbiamo uscire di qua. E proseguire dritti davanti a noi. Per forza. Perché se no, altrimenti, non possiamo andare avanti. Oh, maronne santa. Aiuto. Scusi. Per digio... Oh, oh. C'è del fumo. E perché c'è del fumo da sul soffitto? Oh, maronne santa. Sono le quattro e mezza di notte. E sto registrando sto cavolo di gioco per voi. Oltretutto. Scusate. Salve. Buongiorno. Oh, maronne santa. Quella luce del cavolo. Ma dai, ma per favore. E qui è chiuso. Oh, 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 oh. Dio, maronne santissima. Mi ha fatto pigliare un cavolo di spavento. Oddio, no. Oh, maronne santa. Ma che cavolo sta succedendo, tra l'altro? Oh, ma... Ma maronne santa. Ah, sì. Scintilla da tutte le parti. Io passo e chi se ne frega. Buongiorno. Salve. C'è permesso? Si può oltrepassare di qui? Mica ci sta la morte davanti a me. Oh, maronne santa. Oh, maronne santa. Ufficio 2. Bene. Eh, oddio ragazzi. C'ho i brividi nella vita reale. Maronne santa. Ancora altre cavolo di strade da intraprendere. Oddio. Sta cosa fa luce però. Ma a me non mi sembra che mi faccia luce. Cioè, ma... No, veramente. Ma sta cosa qua non mi fa luce però. Ma mi fa veramente pochissima luce. E qua non si può entrare. E qua ancora dell'altro fumo da sul soffitto. Ufficio 1. Delle candele. Ok. Deduco che dovrei andare di qua. Salve. Buongiorno. No. Strada chiusa. Eh, sì. Ci sta una cavolo di strada chiusa. Che non è una cosa tanto buona e giusta fare. Allora, facciamo così. Andiamo più in avanti. Perché? Living room. Ah, ok. Perfetto. Tasto destro per aprire le porte. Scusi, eh. La richiudo per questione di principio. Che cavolo è successo? Scusi? Signora porta, mi si chiuda un attimo? E che cos'è? Rotti maleducati. Paronne santa, una marea di strade. Cioè, strade poi. Eh, ma che cos'è? Ma dovrebbe essere, credo, una biblioteca. Sì, credo proprio di sì. A quanto pare mi sa che noi dovremmo investigare per poter sia andare avanti che anche per scoprire che cavolo sia successo eh, all'interno di sto posto. Perché, eh, sì. Poi alla fine ci danno la possibilità anche di esplorare un manicomio eh, tra cartelle cliniche, insomma eh, registrazioni, eccetera, eccetera per cercare, maronne santa di capire che cosa sta succedendo. Eh, salve, buongiorno, dica c'è nessuno in casa? Una mappa? Bene, yehey, com'è che si alza? Cioè, com'è che si fa ad apparire la mappa? Scusate? Eh, non lo so com'è che facciamo ad aprire la mappa oddio, ma è tutto quanto buierrimo ma non so nemmeno io dove cavolo è che sto andando, tra l'altro ah, bene, di qua è chiuso ah, no possiamo anche andarci però sulle pile di libri invece ah, aspetta eh, sì un'altra tv però sto tizio si abbassa sì, si abbassa allora, arrivato a questo punto mi sa tanto che dobbiamo uscire di qua e andare a vedere un attimino un po' più in avanti ah, ok possiamo anche sprintare sbisciare via come se non ci fosse un domani è arrivato a questo punto di quando mi pare di vedere nient'altro ora, ora se andiamo avanti ahia, baronne, santa le cavolo delle portate in faccia però, eh e non così però, eh scusi che cos'è? ok questa qui è chiusa andiamo un po' più in avanti ah un'altra candela allora, qui è da dove è che siamo venuti giusto? ah, sì a quanto pare, sì safe un'altra porta qua ma è chiusa safe, safe, safe e vabbè e quindi? ah, scusate vabbè fino alla fine dobbiamo trovare quanto meno un qualche cosa per poter andare avanti perché se no altrimenti eh no questa qui non l'ho esplorata la zona eh no a quanto pare no questa qui si può aprire salve buongiorno c'è nessuno in casa? si può? ci è permesso? sono venuto soltanto per un piccolo caffettino ma a quanto pare la situazione qui è veramente molto trastica e commovente tragica e commovente ah, sì sono ritornato di nuovo indietro allora a quanto pare mi sa tanto che era un'altra strada secondaria cavolo però sta cavolo di cosa che ci abbiamo in mano oh non fa assolutamente un ben minimo di luce siamo soli ragazzi siamo soli e non poco allora di qua io non posso passare credo no però là davanti che cos'è che abbiamo? abbiamo delle altre tv bene un'altra oh maronne santa un'altra strada che va qua sulla sinistra e vedo già cadaveri là sotto bene e qui invece abbiamo cose sì delle altre tv a quanto pare questi qua erano dei patiti di tv molto molto minuscole se è per questo buongiorno salve ah 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 l'ho visto l'ho visto e come ah no 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 questo qua di sicuro aprirà questa porta questo qua di sicuro aprirà questa porta davanti a noi e non mi pare una buona cosa sapete che c'è? io passo in parte salve buongiorno scusi eh non la vorrei disturbare ma sono venuto giusto a dare una piccola occhiata e abbiamo due braccio una testa un corpo come messo come un salame e un altro corpo messo come un salame bene allora questo qua è l'ufficio numero 7 buongiorno scusi eh non per fare quello non per essere quello ipercritico ma sai com'è no? uhlala abbiamo trovato finalmente una chiave e credo che la chiave dovrebbe essere per quella porta a destra ehm non lo oddio santissimo no oh eh eh no 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 ma che ma 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 state scherzo ma che è quel coso ma che è quel coso che si aggira qua dentro oh no 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 ma siete pazzi? ma siete ma siete scemi nel cervello ma che vi dice il cervello ma maronne santissima maronne santissima oddio santo un cadavero buongiorno ci hai permesso? sono venuto a farle visita maronne santa però non fa un ben minimo di luce sta cavolo di cosa che ci abbiamo in mano eh ma che due maronzoli scusi buon uomo che cosa le è successo? ha mangiato cose velenose e gli si è tranciata la mano? o magari c'ha semplicemente la gobba? oddio santo possiamo andare di qua possiamo andare di qua possiamo andare di qua oh maronne santa oh maronne oddio oddio santissimo possiamo andare di qua no 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 spegni spegni tutto spegni tutto no oddio ragazzi no veramente è angosciante sto gioco credetemi è veramente molto molto angosciante oddio santo ma ma perché ho deciso di giocare a sto gioco pure io? e beh ovviamente perché è un gioco nuovo voglio portarvi cose nuove cercare quantomeno di sopravvivere a questa brutta cosa aspetta maronne ragazzi mo c'ho paura di trovarmelo in ogni dove sto tizio non ho ben capito dove cavolo è che devo andare secondo me noi dobbiamo proseguire per forza di co ah no aspetta ah no 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 dobbiamo proseguire per forza via 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 oh maronne oh maronne ah 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 maronne santissima maronne santissima maronne eh ragazzi dobbiamo stare attenti perché se questo qua ci becca ci fa fuori allora questi qua da quello che ho capito mi sa che uno è oddio uno è un nascondiglio per poterci nascondere no mi sa che è un labirinto è un maledettissimo labirinto oddio santo un altro cadavere buongiorno salve scusi eh non facci caso a me io sono venuto giusto per portarle un attimino un bicchiere d'acqua se così vogliamo dire eh credo che questo qua dovrebbe essere un altro un altro nascondiglio salve eh si accomodo lì no non si alzi perché già ho il panico in corpo questa qua è chiusa non posso fare niente poi che cos'è che abbiamo più ancora delle altre piccole scorciatoie bene eh si perché a quanto pare se questa qua è chiusa dobbiamo andare per forza di cose da uno di questi tre piccoli cosi aiuto dove cavolo è che sto andando di qua si che poi vattene la pesca dove è che stiamo andando non lo so ragazzi dove cavolo è che stiamo andando speriamo che non mi ci esca qualche cosa di tanto tanto cattivo che se no altrimenti faccio un big salto sulla sedia e disinstallo il gioco la velocità della luce e gli dico senti è stato un piacere conoscerti ma dove cacchio sto andando ma dove cavolo oddio no ma sono ritornato indietro sì sono ritornato indietro iei che bello la mia solita gioia aspetta non riesco più a trovare la strada aiuto scusate per di giovani perché non riesco più a trovare la strada aspetta aspetta perché noi mi sa che siamo andati di qua poi mi sa che siamo andati dritti poi è girato qua a destra sinistra dritto eccolo qua ok va bene allora visto e considerato che queste piccole scorciatoie mi fanno ritornare dall'altro lato vuol dire che dobbiamo provarle tutte e tre allora prima abbiamo provato quella là di destra ora proviamo questa qui centrale io vado dritto giro a sinistra ed è chiuso no è aperto oh no è chiuso ok però aspetta usciamo perché devo capire andiamo di qua andiamo di qua poi a sinistra vediamo un attimo vado dritto oddio santo oddio santo oh maronne santissimo cielo dove cavolo è che stiamo andando ma non si vede niente ma sta cavolo di cosa non può fare più luce ma stiamo andando tanto oltre lontano tanto lontano è tanto lungherrime dio maronne ma è un cacchio di labirinto sto posto ma veramente ma mi prendete in giro scusate ah bene siamo ritornati allo stesso identico posto benissimo perfetto è ok eh sì secondo me aspetta ma non è che forse magari dovrei mettere quella chiave che abbiamo c'è che poi tra l'altro la chiave che noi abbiamo recuperato dove cavolo aaa eccolo oh maronne 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 no 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 acuccia acuccia stai buonino acuccia oh ho detto deve starte acuccia eh allora secondo me qua dobbiamo andare di luci spente per forza di cose con luci spente perché se questo qua mi becca mi fa fuori salve io accendo un attimino una luce tanto comunque sia la sua luce rossa comunque sia si vede e quando meno te lo aspetti ti potrebbe fare bubussette da dietro aspetta spegni perché lui potrebbe essere in ogni cavolo di dove si potrebbe essere in ogni dove ragazzi potrebbe essere in ogni fottutissimo posto oh maronne santa che cacchio di spavento l'orologio a cucù qui mi ha fatto spaventare un attimo accendi aspetta eccolo no aspetta non è lui ma siamo ritornati indietro siamo ritornati indietro yay che bello si è la solita porta aspettate però ritorniamo un attimino qua dentro vediamo un po' salve buongiorno ah vediamo un attimo se magari ah eccolo cioè che io poi voglio cercare di capire che roba è sto eccolo 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 no no ma fai ma fai veramente maronne santissima giovane quanto fai schifo e vabbè e che cos'è ma che cavolo sei un dottore un dottore trasformato in un soccorso in un maronne santissima volete vedere che devo ricominciare per forza tutto da capo oh madre santissima cioè è fatto bene è da cacarsi addosso però oh no no ma mi prendi in giro ma mi prendi extra in giro cioè io per salvare la partita devo ritornare sempre ogni volta indietro no ragazzi no ma questo veramente è un abusivismo totale vabbè dai ragazzi allora io direi che con questo primo appuntamento della serie di Dica possiamo anche fermarci qua arrivato a questo punto io mi fermo perché purtroppo ragazzi come avete ben visto quando si muore si ritorna completamente indietro forse evidentemente ci saranno altri scheletrini del genere per poter salvare la partita in giro detto questo io concludo qui vi invito gentilmente a lasciare un like mi raccomando continuate a crescere commentate iscrivetevi attivate la campanellina per ricevere ulteriore informazioni dal canale se volete magari rimanere aggiornati su questi video eccetera eccetera detto questo vi saluto e noi ci si becca in un prossimo video un saluto a tutti da G90 Gamer ciao ciao